Il codicione è stato farcita con gli adag! Metti in ordine... Tutti questi muscoli per niente. Phoebe, hai visto come ho fermato quel congelatore in fuga? Era più lento e leggero del... Caspita, Thunder Gemelli, mi avete reso un po' triste, ma vedervi condividere quello mi ha reso felice. Tra poco, i Thunderman! Continuano i festeggiamenti per SpongeBob! È un'occasione incredibile! Mai vista prima! Con episodi nuovissimi! Preparati a ridere nel passato! Nel presente! E nel futuro! Ma fai attenzione a non ridere a crepapelle! Quindi mettiti comodo per... SpongeBob Party! Alle 9.45, alle 14.45, solo su Nickelodeon! across the END! Of course! Que SENI enforced la regia! Ho! 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 Eh! Ho! 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 Parte X Factor, la grande festa della musica Dal 12 settembre su Sky 1 Vi aspettiamo Ed ora, i Thundermall Qual è l'emergenza? È scappato il Gran Chioreale!